E' stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione del masterplan litorale Salerno-Sud. Il progetto coinvolge anche la fascia costiera di Battipaglia e mira a riqualificare la costa sud di Salerno in un'ottica di sviluppo reale. Soddisfatto l'assessore allo sviluppo urbano di Battipaglia Davide Bruno che sottolinea che grazie al lavoro che verrà realizzato si avrà un percorso programmatico e progettuale per trasformare il litorale. Nelle prossime settimane, aggiunge Bruno, sarà avviata un'attività di confronto con il partenariato socio-economico e gli operatori locali.